Musica Ben trovati a voi tutti gentili telespettatori da On Air News, il telegiornale di TVRS è stata nitidamente avvertita anche in un'ampia fascia della nostra regione. Da Pestero a Civitanova la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 che ha avuto come epicentro una cittadina croata situata ad un centinaio di chilometri da Zagabria. Alcuni cittadini allarmati hanno chiamato i vigili del fuoco ma non si è andati al di là di momenti di comprensibile timore. Molto seri invece i danni subiti nel paese balcanico con morti e numerosissimi edifici semidistrutti. E veniamo ora alla pandemia da coronavirus con gli ultimi dati relativi alle Marche. Sono 508 nuovi positivi su 4.229 tamponi processati. 194 dei neocontagiati provengono dalla provincia di Pesero Urbino, 123 dall'Anconetano, 83 dalla provincia di Fermo. Le cifre relative ai ricoverati che sono complessivamente 526 più 12 rispetto a ieri, mentre i degenti nelle terapie intensive passano da 60 a 61. Lo screening di massa intanto prosegue. Abbiamo superato le 65.000 persone che si sono sottoposte volontariamente ed in forma gratuita al test antigenico rapido con l'individuazione di 368 positivi. Sino a domani i tamponi proseguono al Fermo Forum per i cittadini di Porto Sant'Elpidio e di Sant'Elpidio a Mare, mentre dal 2 gennaio inizierà lo screening anche a San Benedetto del Tronto. Domani all'aeroporto di Falconara arriveranno quasi 9.000 vaccini. Sentiamo i particolari nel servizio di Manolita Scocco. Arriveranno domani all'aeroporto di Falconara 8.775 vaccini Covid-19 destinati al personale della sanità pubblica, privata e delle RSA marchigiane. Lo ha confermato l'assessore regionale alla sanità, Filippo Salta Martini. All'IRCA e all'azienda ospedaliera di Torrette di Ancona sono destinati 975 vaccini. 1.950 andranno a Fossombrone per gli ospedali di Urbino e Marche Nord, 975 a Camerino, 975 a Civitanova Marche, altrettanti a San Benedetto del Tronto a Fermo e 1.950 per Ghiesi, Fabriano, Senigallia. La campagna vaccinale sta procedendo secondo la tempistica concordata a livello europeo e nazionale, commenta l'assessore. Garantiremo gradualmente ai marchigiani la possibilità di avvalersi di questo prezioso aiuto per sconfiggere la pandemia. L'assessore ricorda che attualmente i posti in terapia intensiva dedicati ai malati Covid-19 sono stati incrementati da 124 a 216, consentendo di disporne con una percentuale inferiore alla soglia di allerta del 30%. E si comunica che a seguito dei periodici controlli nella residenza per anziani Vincenzo Porcelli di Tolentino al momento sono risultati positivi tre operatori di una cooperativa che opera all'interno e 12 ospiti sui 90 attualmente presenti nella struttura, dati che sono stati confermati dai tamponi molecolari praticati subito dopo i tamponi cosiddetti veloci. E cambiamo argomento, c'è stato questo pomeriggio un sopralluogo nella villetta di Via Pertini a Monte Cassiano dove la notte della vigilia di Natale è stato trovato senza vita il corpo di Rosina Carsetti, 78 anni. Erano presenti la figlia Arianna e il nipote Nea Simonetti accompagnati dai loro legali, oltre al procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio, al sostituto Carusi e dai carabinieri. Sono stati effettuati dei rilievi sia nell'abitazione che nel giardino anche per verificare quanto sostengono i familiari, ossia che vi sia stata l'introduzione di un ladro all'interno della casa. Prosegue anche l'esame delle immagini che si è riusciti ad acquisire. Un 62enne originario della provincia di Chieti è stato denunciato per tentato furto. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso in mattinata mentre stava tentando di entrare in un'abitazione di Trisungo di Arquata del Tronto dopo aver frantumato un vetro con un grosso bastone. Il malvivente è stato bloccato dai carabinieri e successivamente portato in caserma. A causa del vento forte e della pioggia che hanno interessato ieri, in particolare, le province di Pesaro, Urbino e Dancona, molti sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, nella notte in particolare per rimuovere dalle strade alberi, rami e altri ingombri o piante pericolanti. In tutto, una trentina le operazioni portate a termine. A Valle Remita, nel comune di Fabriano, è stata ritrovata in buone condizioni fisiche una persona che si era smarrita a causa delle avverse condizioni meteo. È stato accompagnato poi al pronto soccorso per le cure del caso, con annessa una multa di 400 euro per aver violato le norme del coprifuoco. Ad Osimo, in via Iesi, sotto la pioggia battente, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono scontrate due auto. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Le persone che viaggiavano sui veicoli interessati erano già state portate a bordo delle ambulanze del 118. Una ragazzina di 14 anni è stata poi trasportata al Salesi per i traumi dell'impatto. Le sue condizioni comunque non sono gravi. E cambiamo ora argomento con una campagna di sensibilizzazione dell'Avis regionale per la donazione del plasma iperimmune e non solo. Sentiamo l'intervista. L'Avis Mark è impegnata in una campagna di informazione nei confronti, anzitutto, dei propri iscritti, ma in generale della popolazione, per sensibilizzare tutti verso la donazione del plasma iperimmune. Il plasma, cioè dei pazienti guariti dal Covid-19, che hanno sviluppato anticorpi particolarmente efficaci. Massimo Laurea è il Presidente regionale dell'Avis. Anzitutto, Presidente, chi può aderire e quali sono le modalità di adesione? Allora, possono aderire tutti quelli che sono stati malati di Covid e sono guariti. Trascorsi 14 giorni possono prendere contatti o con l'Avis del proprio territorio, oppure con il centro trasfusionale del proprio territorio. Allora, fino a qualche giorno fa, la partecipazione era condizionata alla sperimentazione e quindi aveva dei vincoli molto stretti, quindi noi tutte le comunicazioni che abbiamo diffuso finora sono molto restrittive perché potevano donare solo chi aveva un certo livello di anticorpi e in certe condizioni. Oggi che la sperimentazione è chiusa perché è finita la sperimentazione, ma si continua a raccogliere il plasma iperimmune perché viene utilizzato, la maggior parte è stato utilizzato così nel nostro territorio, per uso compassionevole, quindi per curare chi i malati che non reagivano, non rispondevano ad altre terapie è stato utilizzato il plasma. Quindi non ci sono più quei vincoli stretti, quindi si è allargata la fascia dei donatori. Qual è il ruolo dell'Avis un po' in questa fase? Il ruolo dell'Avis è quello di promuovere, è in generale questo l'attività, tutta l'attività di Avis nel mondo dell'annodazione del sangue e del plasma è quella di promuovere e di organizzare la raccolta del sangue, quindi le chiamate, invitare i donatori a donare, ma prima di tutto è quella di trovare e sensibilizzare i donatori. Qui in questa fase è lo stesso, noi cerchiamo di sensibilizzare i nostri donatori che sono stati malati e anche chi non era donatore a diventarlo, perché penso che specialmente se qualche cittadino che è rimasto colpito da Covid e magari ha subito anche pesantemente le difficoltà della malattia, sicuramente è molto più sensibile e comprende le difficoltà di chi oggi sta in una situazione, magari come lui c'era stato qualche tempo fa. Cerchiamo di sensibilizzare proprio questi guariti da Covid. Diciamo che sull'Avis non scopriamo assolutamente niente, però questa potrebbe essere un'opportunità, un'occasione ulteriore per conoscere la vostra associazione. Anche questo sicuramente lo è. I momenti di emergenza, e questo è sicuramente un momento di emergenza, porta a sensibilizzare di più e si raccoglie meglio l'invito dell'Avis a donare sangue e plasma. In questo momento invitiamo anche i donatori e chi non lo è anche a donare il sangue, perché è un momento di rallentamento, anche perché consideriamo che anche il semplice contagio o anche l'isolamento volontario dovuto alle contagi vicini, i contagi indiretti, porta al rallentamento anche delle donazioni, è come nel caso delle forti influenze, quindi abbiamo meno donatori disponibili e abbiamo in questo momento difficoltà. Quindi avere nuovi donatori ci aiuterebbe a superare il momento difficile in questo periodo. Ed un altro intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto stamane a Poggio San Vicino per la tamponatura di una tubazione dell'acqua posta in un bosco nelle vicinanze del centro abitato, in una zona particolarmente impervia. La squadra di Macerata ha utilizzato le tecniche speleo-alpino-fluviali per poter raggiungere il tubo ed applicare delle fasce specifiche atte ad otturare la falla che si è formata nel condotto, messa poi in sicurezza tutta l'area dell'operazione. Ancora un colpo della Polizia di Stato di Fermo nei confronti della delinquenza con base operativa a Lido Trearchi. Gli operatori della squadra mobile della Questura hanno proceduto all'arresto di un trentenne nordafricano clandestino sul territorio nazionale perché è riconosciuto responsabile di numerosi reati predatori commessi spesso con violenza sulla persona ed armi e per molteplici episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. In primo piano la modernizzazione della pubblica amministrazione nel bilancio di previsione del Consiglio regionale Marche ha approvato stamattina a larga maggioranza due astensioni in aula in una seduta in presenza con alcuni consiglieri e assessori collegati in videoconferenza ma porte chiuse dopo la positività di una consigliera regionale nello specifico Manuela Bora, sintomatica, che ha fatto scattare il protocollo previsto. Il documento è stato illustrato in aula dal vicepresidente dell'Assemblea Gianluca Pasqui. Nell'occasione sono stati evidenziati profondi mutamenti sulle modalità di lavoro introdotte a causa dell'emergenza epidemiologica che potranno costituire importanti prospettive per gli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Il bilancio resta in linea con le gestioni degli anni precedenti che evidenziano una stabilità nel contenimento delle spese di funzionamento. Il punto sull'economia marchigiana e le nuove misure per i prossimi mesi nella conferenza stampa organizzata dalla Camera di Commercio e dalla Regione Affano in un'azienda simbolo di innovazione. Vediamo il servizio. Una conferenza stampa non convenzionale proprio come il momento che stiamo vivendo ad organizzarla online e in presenza la Camera di Commercio delle Marche che entrando in un'azienda, la Orciani SPA Affano, marchio del lusso nella produzione di borse e accessori in pelle, 57 dipendenti per 11 milioni di euro di fatturato nel 2019 ha illustrato i risultati del bando B2B Digital Markets appena chiuso ha presentato le nuove misure in collaborazione con la Regione per i prossimi mesi e ha fatto il punto con il direttore dell'Istituto Tagliacarne, Domenico Mauriello sullo stato di salute dell'economia marchigiana che, va detto, soffre più delle altre regioni italiane specie in termini di mortalità delle aziende e aumento della disoccupazione Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche Beh sì, siamo venuti qui all'azienda Orciani Affano un'azienda che ha sfruttato il bando che insieme alla Regione Marche abbiamo messo per i nostri imprenditori marchigiani B2B Showroom Virtuale lo abbiamo chiamato ovvero la possibilità alle nostre aziende di entrare nel mondo della digitalizzazione avere un vandaggio in più per quelle che utilizzavano poi società marchigiane per sviluppare questi prodotti la Dittorciani ci ha fatto vedere come ha utilizzato i finanziamenti messi in atto dalla Camera di Commercio della Regione Marche e ne siamo contentissimi sicuramente il futuro è questa linea il futuro passerà sulla digitalizzazione su un nuovo modello di green un nuovo modello di anche presentarsi nel mondo con delle filiere magari più unite tra loro e insieme alla Regione Marche cercheremo di trovare tutte quelle sinergie che possono dare un valore aggiunto per far sì che l'economia marchigiana possa riprendere dopo il post-covid più velocemente possibile Alla conferenza sono intervenuti anche Marco Pierpaoli componente di Giunta Camerale con Delegal di Innovazione il fondatore, CEO della Orciani, Claudio Orciani e l'assessore regionale alle attività produttive nonché vicepresidente della Giunta, Mirko Carloni ci sono le condizioni per far tornare questa regione a livelli pre-crisi o addirittura per migliorare le performance di una realtà fortemente caratterizzata per la manifattura e l'imprenditoria? Ci sono soltanto se la sfida che oggi sta colpendo le nostre imprese diventa un'opportunità se non ci si piega di fronte a questa ondata disastrosa che rappresenta il covid e prima ancora altre crisi quella finanziaria, quella della globalizzazione il terremoto e banca Marche se questa sfida, questo pericolo diciamo così diventa un'opportunità c'è l'opportunità di crescere altrimenti rischia di essere un punto di non ritorno per il nostro sistema così microimpresa diffusa con tante diversità dalle altre territori quello che oggi emerge purtroppo perché bisogna partire dalla verità è che siamo all'ultimo posto d'Italia come cessazioni e nuove imprese quindi abbiamo un primato veramente drammatico soltanto se si creano percorsi come abbiamo fatto con la Camera di Commercio per innovare i processi produttivi innovare il prodotto e capacità di perforazione dei mercati esteri si può raggiungere una sfida per le nostre microimprese l'azienda in cui siamo è l'esempio io ho voluto fortemente farla qui perché è un'azienda che ha trasformato un prodotto creativo artigianale in pelle in grande eccellenza ha saputo innovare il processo ha saputo innovare il prodotto e soprattutto anzitempo anche grazie a questo contributo che abbiamo messo in campo ma lo faceva già da molti anni ha avuto la capacità di fare B2B attraverso la digitalizzazione delle vendite un segnale di solidarietà concreto verso le persone e le famiglie che in particolare in questo momento si trovano in situazioni di difficoltà lo lancia il circolo Aldo Moro di Macerata che in collaborazione con il centro di ascolto e di prima accoglienza ha organizzato una cena da asporto presso il ristorante Il Ghiottone di Via Gramsci per la serata di Capodanno dal titolo aggiungi un pasto a tavola ci si può rivolgere presso la sede di Rampazzara o dello stesso circolo in Borgo Sforza Costa per ritirare il relativo buono è possibile anche sostenere questa iniziativa con una donazione la pedemontana da Fabriano a Muccio ultimata entro il 2023 come già anticipato ieri questa importante arteria penninica sarà completata con un preciso cronoprogramma vediamo 29 mesi questo è il termine per il completamento dei lavori dell'attesissima pedemontana un'opera di cui si parla da un quarto di secolo e che dovrebbe finalmente collegare territori martoriati prima da una devastante crisi economica e successivamente dal sisma i lavori per i primi due lotti sono già in esecuzione entro giugno 2021 dovrebbe essere ultimato il tratto da Fabriano a Matelica Nord mentre entro marzo 2022 si arriverà a Casterraimondo l'ultima azione sino a Muccia si dovrebbe avere per il 2023 una strada fondamentale che attraverserà dunque il cuore dell'appennino marchigiano la soddisfazione del presidente della provincia di Macerata Antonio Pettinari è uno storico passo avanti proprio sulla via sul cammino della realizzazione del più ampio progetto quadrilatero che prevede tra l'altro la pedemontana direi che è un regalo veramente regalo di Natale per le popolazioni terremotate in quanto appunto questa è un'area che ha bisogno se prima aveva bisogno erano necessari questi interventi oggi sono indispensabili basti pensare che da Fabriano fino a Muccia e poi con il prosieguo verso Valnerina si tratta veramente di collegare tutte le comunità del nostro introterra maceratese quelle più del resto colpite appunto dal recente sisma quindi nei primi anni 2000 era un progetto molto importante ma oggi è diventato fondamentale e la notizia è appunto che proprio il 22 dicembre sono stati approvati i due progetti esecutivi gli ultimi progetti esecutivi dei due estralgi terzo e quarto interamente finanziati io sento dire che i finanziamenti non ci sono che le opere non vanno avanti è una cosa assolutamente istituita di fondamento è il contrario sono quattro lotti il primo Fabriano Materica Nord il secondo Materica Nord Castello del Mondo Nord che sono in costruzione ma finalmente ecco il terzo il quarto lotto che oggi che sono stati approvati pochi giorni fa nei prossimi settimane all'inizio del 10 gennaio inizieranno saranno consegnati lavori inizieranno i cantieri altra caratteristica del quartieratelo che non si fanno i lavori diciamo con un programma successivo ma con demoralmente come sono pronti si attivano e si portano avanti questo è molto importante ci fa dire uso il futuro perché perché con certezza che nella primavera del 2023 avremo la realizzazione di tutta la Piede Montana allora noi dobbiamo sapere che le infrastrutture sono un eccezionale moltiplicatore di sviluppo la Piede Montana è uno di questi moltiplicatori di sviluppo soprattutto in aree anche colpite dal pesante terremoto del passato ora il nostro obiettivo è prolungare il modello quadrilatero anche nell'altra provincia delle Marche ossia nel Passarese nell'Ascolano e ovviamente non dimenticandoci l'altra nostra provincia che è il Fermano oltre a Piede Montana dobbiamo concentrarci nel sistema delle intervallive che uniscono le valle marchigiane che sono fatte appunto a pettine verso la nostra litorale di 170 km quindi andremo a unire in un unico sistema tutta la nostra regione apriamo ora la pagina sportiva con il calcio sono 24 i convocati dal mister Andrea Sottilla per la gara di domani dell'Ascoli al Castellani di Empoli con fischio d'inizio alle 18 non ci sono quindi variazioni rispetto al match con la Spal con 5 assenti ossia Gazzolini impegnato con la rappresentativa under 20 del Marocco e gli infortunati Kragla Spendlofer Sini e Mallet La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto un accordo fino al 15 febbraio e rivalutabile in base al rientro dell'infortunato Franz Massenat con la guardia di 185 cm e 77 kg Gerald Robinson classe 89 di Nashville ha giocato in Belgio Israele Lettonia Grecia e Turchia prima di approdare alla Virtus Roma fino al ritiro dal campionato della compagine capitolina e vediamo ora le previsioni meteo per mercoledì 30 dicembre Amici Trebi Meteo bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora bassa pressione sull'Italia anche se stavolta saranno coinvolte principalmente le regioni centro-meridionali per il nord Italia giornata un pochino più tranquilla però in generale guardate non si vedono alte pressioni sul Mediterraneo sull'Europa e sull'Italia quindi avremo a che fare anche nei prossimi giorni con molta variabilità partiamo però dalla giornata di mercoledì con appunto ancora parecchie nuvole sul nostro paese si concentreranno nelle regioni centro-meridionali mentre al nord piano piano a iniziare dalla fascia alpina e prealpina si farà avanti qualche timida schiarita e come precipitazioni saranno soprattutto le regioni tirreniche a vedere ancora scrosci di pioggia piuttosto frequenti ma il maltempo poi raggiunge anche il versante adriatico mentre come vedete al nord precipitazioni un po' meno probabili quindi in definitiva tempo in graduale parziale miglioramento al nord piano piano tornano diciamo a delle schiarite invece al centro-sud giornata molto variabile instabile soprattutto versante tirrenico ma le piogge raggiungono in parte anche l'adriatico attenzione anche al vento che tende sia ad attenuarsi ma al centro-sud si farà ancora sentire e come temperature valori bassini al nord invece al centro-sud clima decisamente più mite per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi anche nei giorni successivi scaricate l'app gratuita di trebi meteo pallavolo buona la ripartenza nel campionato di serie 2 femminile per la CBF Balducci-Macerata dopo un lungo stop dovuto alla pandemia infatti le arancionere guidate in cabina di regia dalla Peretti hanno battuto con il massimo scarto il Montecchio Maggiore con parziale a 23-19-21 e con 22 punti della Lipsca un successo che consente alle ragazze di coach Paniconi di salire a quota 12 in classifica sempre al penultimo posto ma con ben quattro partite da recuperare e ricordiamo domani alle 18 l'impegno in a tre maschile della Mestor Macerata che riceve il Mosca Bruno Bolzano con diretta sul canale 11 della nostra emittente con questo è tutto grazie per la cortesa attenzione a presto